La scatola in questo periodo sarebbe il compleanno di Dini. Lui compierebbe 10 anni e noi abbiamo voluto rappresentare una scatola con i tre nostri pensieri esplicitando quello che pensiamo sull'Unione Europea. Sia così dividi che mi chiede. Sia sulla Rira, sia sull'Euro e anche su tutti gli altri paesi. Allora, questa è caratterizzata da un'Unione Europea e dalla scritta Dini. Come abbiamo già detto, è il compleanno. E dentro qui, guardate, ci sono tutti i nostri pensieri raggruppati e scritti positivi oppure negativi, che non si sa ancora. Poi abbiamo voluto rappresentare anche molti disegni. Come abbiamo detto, questa è una stella, è una stella dell'Unione Europea. L'abbiamo voluto rappresentare scrivendogli gli auguri, perché è molto particolare. Questo, invece, è un disegno molto carino, perché dice di essere uniti con l'Unione Europea. Come vedete? Quindi, questo è anche un significato, un segno, per essere uniti con l'Unione Europea. Vedete?